Amici di Android Blog, siamo alle conclusioni finali di questo Mobile World Congress 2014 in Valcellona, siamo stanchi, siamo felici di aver trovato delle novità interessanti, alcuni terminali sono stati al di sopra delle aspettative, alcuni al di sotto delle aspettative e solo il tempo ci dirà quali il mercato premerà e quali boccerà e abbiamo riunito lo staff tranne un nostro membro che salutiamo, Ciao Salvatore, che è dovuto andare via prima e quindi facciamo i saluti ormai finali da nostro staff tecnico nella persona di Pierpaolo Regnante e è stato veramente sommerso da lavoro in questi giorni, il nostro coordinatore, la testa della nostra spedizione, la persona che ci ha permesso di essere qua, Antonio Mallia, saluto Antonio, la canovista lavora anche durante il video di saluto, il nostro cameraman e recensore Gabriele Trovato qua al mio fianco, il nostro piccolo ma concentratissimo Alessio Cinampro che veramente è provatissimo da tutte queste dimensioni, non ho più voce per tutti i video che abbiamo fatto, la voce ufficiale di questa fiera, scusate per qualche piccolo lapsus che ci può stare con la gente che ti spinge e con il poco tempo a disposizione per ogni terminale e con questo concludiamo e vi salutiamo da tutto lo staff di androidblog.it Ciao ciao ragazzi, ciao ciao ciao